Anticipazioni terra amara. Betul arriva in azienda, e subito viene informata dalla segretaria che al procuratore è stata consegnata una pistola con un biglietto che accusa Zuleyha di aver ucciso Umit, e sulle armi sono presenti le sue impronte. Sorpresa, Betul torna a casa, dove trova Sermin circondata da nuovi vestiti e un braccialetto di brillanti al polso. Betul commenta che Sermin merita quei regali, ma devono essere prudenti. Presto, Zuleyha finirà in prigione, afferma Betul. Sermin, tuttavia, è scettica e suggerisce che con tutti gli avvocati a disposizione, Zuleyha uscirà presto di prigione o fuggirà per raggiungere Demir. Betul risponde che l'importante è che Zuleyha non torni e che Sermin diventi la capo dell'azienda, cancellando definitivamente il nome degli Yaman. Poco dopo, Betul riceve una chiamata da Kadir, il quale le rivela che grazie a lui le prove contro Zuleyha sono emerse. Ora Betul deve recarsi dal procuratore e riferire di aver sentito Zuleyha confessare l'omicidio di Umit. Betul esita e vorrebbe attendere l'arresto di Zuleyha, ma Kadir si arrabbia e le ordina di andare subito, poiché la prova è affidabile e finalmente potranno liberarsi di lei. Più tardi, Akan bada Kadir e gli rinfaccia di aver consegnato la pistola, sostenendo che Kadir aveva detto di non essere innamorato. Lo accusa di aver cambiato i loro piani, nonostante i grandi investimenti a Kukurova. Akan minaccia di rivelare la vera identità di Kadir e gli ricorda le conseguenze di un tradimento. Kadir risponde dicendo di aver eliminato Zuleyha, in modo che possano prendere tutto ciò che gli Yaman possiedono, cancellando anche il loro ricordo. Assicura che Zuleyha non sarà giustiziata e che, quando uscirà di prigione, Akan potrà sposarla. Akan osserva freddamente Kadir e gli predice che si pentirà delle sue azioni. Successivamente, Kadir commenta con fiducia che non si pentirà affatto, e tutta Kukurova capirà chi è Abdul Kadir. Nel frattempo, la polizia arriva alla villa per arrestare Zuleyha. Con grande tristezza, lei saluta Adnan e gli altri. Fikret le fa le ultime raccomandazioni, promettendo di raggiungerla. Zuleyha viene portata via dai gendarmi, mentre Adnan corre dietro alla loro macchina nel tentativo di raggiungerla. Betul, dopo aver assistito all'arresto di Zuleyha, si dirige immediatamente in procura per denunciarla. Quando arriva, nota che Bedo sta aspettando per controllare la situazione. Betul si rivolge al procuratore e gli dice di avere una cosa importante da riferirgli riguardo all'omicidio di Umit. Tuttavia, vengono interrotti da un usciere che avvisa il procuratore dell'arrivo dei risultati degli esami balistici sulla pistola. Il procuratore segue l'usciere, chiedendo a Betul di aspettarlo. Betul è sicura che i risultati degli esami sulle impronte digitali di Zuleyha la incastreranno, sorride pensando di essersi finalmente liberata di lei. Nel cortile della procura, arriva Zuleyha scortata dalle guardie e con Fikret che la incoraggia a non avere paura, assicurandole che presto tornerà a casa. Akan, fermo nelle vicinanze, osserva la scena da lontano. Nel frattempo, alla villa, Luce e Sanie sono preoccupate per Zuleyha. Luce suggerisce che qualcuno le ha teso una trappola. Sermine entra nel salotto dichiarando il suo dolore, ma Sanie la accusa di essere falsa, sostenendo che in realtà è felice. Sermine insulta Sanie, e Luce porta via il bambino per evitare che assista alla discussione. Sermine afferma che presto la villa sarà sua e Sanie dovrà mendicare per strada. Il procuratore torna da Betul e le comunica che sulla pistola non ci sono impronte di Zuleyha. Betul è sorpresa, ma poi sorride falsamente, affermando di essere felice della notizia. Il procuratore le dice che l'arma è comunque quella del delitto e che devono scoprire a chi appartiene, sospettando che possa essere di Demir Yaman. Il procuratore chiede a Betul cosa voleva riferire sulla morte di Umit. Dopo un attimo di riflessione, Betul gli dice che crede che Demir l'abbia ucciso perché Umit rappresentava una minaccia al suo matrimonio. Il procuratore è sorpreso dall'accusa al cugino e le fa notare che al momento dell'omicidio, Demir era già scomparso. Betul ribatte che potrebbe averlo incontrato e che lui potrebbe averla uccisa. Uscendo dallo studio con Betul, il procuratore trova Zuleyha e Fikret ad attenderlo. Betul dichiara immediatamente a Zuleyha di essere lì per sostenere la sua innocenza. Il procuratore informa Zuleyha che sulla pistola non ci sono le sue impronte e che è stata convocata a seguito di una lettera anonima che l'accusava dell'omicidio. Si scusa per il disturbo e le mostra l'arma, sospettando che possa appartenere a Demir. Fikret lo conferma e chiede di indagare anche su chi ha inviato la pistola, sospettando di Akan Gumusoglu. Il procuratore promette di avviare un'indagine. Akan, nel frattempo, si avvicina a Zuleyha e le offre il suo aiuto. Lei lo ringrazia, e Fikret la porta via, suscitando il disappunto di Betul. Mentre sono in macchina, Zuleyha confessa a Fikret di essere ancora molto preoccupata, sospettando che Akan Gumusoglu sia dietro l'invio della pistola, poiché chi l'ha mandata sa che è stata lei ad uccidere Umit. Non comprende il motivo per cui Akan avrebbe cancellato le sue impronte. Fikret le spiega che hanno attribuito la pistola a Demir perché lui è scomparso, e le chiede se ama ancora Demir. Zuleyha risponde di aver dimenticato tutto quello che le ha fatto, ma ammette che Demir la costringeva ad amarlo. Fikret cerca di calmarla, sottolineando che la morte di Umit è stata accidentale e che non ne è colpevole. Esprime il suo dispiacere per Umit ma rivela di non aver mai pensato che Zuleyha si sarebbe innamorata così profondamente di Demir. Bedo ritorna all'officina di Kadir e gli comunica che sulla pistola non c'erano le impronte di Zuleyha. Kadir replica dicendo che non è possibile. In quel momento, arriva Akan, informandoli che i suoi piani sono andati in fumo. Kadir gli chiede se le ha cancellate lui, e Akan rivive nella sua mente il momento in cui aveva preso la pistola dalla cassaforte e cancellato le impronte. Gli confessa di aver cambiato i piani perché si è innamorato di Zuleyha, sottolineando che lei è intoccabile. Tuttavia, la sua sete di vendetta verso Demir rimane inalterata. Akan gli avverte che, nonostante abbiano creato un impero insieme, se Kadir lo tradisce, lui continuerà ma Kadir morirà. Kadir annuisce in silenzio e, allontanandosi, minaccia di schiacciarlo. Sermin, con Luce, si scusa per la sua scenata davanti ad Adnan e in colpa sani e per il suo comportamento. Luce le risponde che quando ci sono dei bambini, bisogna moderarsi perché assorbono tutto. Nel frattempo, a villa, Zuleyha torna con Fikret e tutti la accolgono felici, tranne Sermin, che è sorpresa di vederla libera. Zuleyha riferisce a tutti che sulla pistola non ci sono le sue impronte. Luce afferma che chi l'ha calunniata dovrà vergognarsi. Betul si avvicina a Fikret e gli racconta che Mehmet si è offerto di pagare il debito di 20 milioni della Holden Yomen senza chiedere nulla in cambio. Non capisce perché Zuleyha non glielo abbia detto. Poi esprime preoccupazione, sospettando che alla fine Mehmet prenderà azioni in cambio dei soldi, cercando di appropriarsi di metà della Holden Yomen. Betul si lamenta e implora l'aiuto di Fikret, confessando di fidarsi solo di lui. Terminano così queste anticipazioni. Se sei curiosa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, scrivi nei commenti voglio il continuo, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima! Grazie a tutti.